gentili telespettatori buona giornata non so se avete assistito alla baruffa sul fatto quotidiano dove colombo un editorialista che era lì da molto tempo se n'è andato dicendo io non posso scrivere su un giornale dove a fianco mi mettono un altro che scrive e la gente non sa più se sono io il falsario o se lui il falsario se n'è andato sbattendo la porta dicendo che questo professore orsini è uno che falsifica la realtà in maniera molto meticolosa fin nei dettagli colombo svela tutto su travaglio il fatto e orsini lo hanno incoronato dice si è creato un clima filo russo mettendo nel mirino pure padellaro dice proprio così l'arrivo di orsini segna una mutazione una rottura un punto di non ritorno furio colombo non si è placato l'ex parlamentare inflessibile severo ostinato icona della sinistra se n'è andato dal giornale di travaglio facendo pure una lavata di capo al direttore per la sua scelta di assecondare la linea del controverso professore sull'ucraina dice colombo io non potevo avere un falsario come collega lamentandosi di essersi pure visto negare la pubblicazione di un articolo nel quale manifestava questo suo dissenso un fatto che non era mai accaduto e che ha spinto l'editorialista a levare le tende allora è successo anche a me io scrivevo su un giornale più importante qui dello stato un giorno compro il giornale vedo che il mio articolo non c'è hanno detto problemi di spazio forse problemi di censura io che cosa ho fatto li ho mandati tutti a quel paese quanto neanche mi pagavano andate a quel paese non scrivo più basta fine punto quindi quando tu fai un articolo per un giornale e non te lo pubblicano altro che se girano come un ventilatore alla massima velocità infatti lui dice non era mai accaduto e così la furibonda rissa scatenatesi nei giorni scorsi attorno a queste cose è arrivata al secondo round ora colombo dice il quotidiano che avevo contribuito a fondare 13 anni fa ha preparato una grande festa di incoronazione per il nuovo personaggio della politica italiana il professor rossini dice colombo dice un evento al quale avevano preso parte le principali firme del giornale travagliesco il giornale travagliesco direttore in primis la celebrazione del sociologo campano ha spiegato colombo impediva e impedisce assolutamente a una persona come me di restare sulle stesse pagine e poi dice l'arrivo di orsini segna una mutazione una rottura di continuità segna nella vita del giornale un'epoca nuova e quest'epoca nuova è un'epoca brutta perché caratterizzata dall'alterazione della verità ho notato anch'io che sul fatto quando faccio la rassegna stampa vedo che ci sono dei titoli forvianti dei titoli che ti fanno capire un'altra cosa ma che non è e lui dice beh questa è una nuova epoca l'alterazione della verità dice colombo dice la volontà di non risultare ostili al clima filo russo creatosi nel giornale ha ricevuto così attestazioni anche di solitarietà nella resa dei conti a mezzo stampa l'ex direttore dell'unità ha anche svelato di aver esposto a travaglio il proprio disappunto incontrando però una strenua difesa di quest'ultimo nei confronti di orsini e di massimo fini altro editorialista che colombo aveva attaccato per le sue ricostruzioni storiche a nulla sarebbero serviti tentativi di mediazione non poteva funzionare c'era il macigno delle falsità sulla crisi internazionale come raccontata da orsini e come sui nazisti in italia raccontate da fini colombo anche svelato qual è suo parere sarebbero gli altarini del fatto quotidiano sottolineando una diversità di opinioni tra gli stessi padellaro e travaglio ho l'impressione che ci siano delle differenze forse anche sostanziali ma padellaro da buon editore si trova nella condizione di non poter perdere un direttore che funziona bene con un certo tipo di pubblico padellaro sostiene travaglio perché travaglio è il giornale per l'ex parlamentare quell'aria era diventata irrespirabile e certo dove lo trovi un altro travaglio per fare il capo del giornale dei grillini dove lo trovi un altro travaglio filo russo che fa scrivere orsini che piace tanto ai grillini e ai complottisti ma dove lo trovi da nessuna parte quindi se lo tengono ben stretto travaglio travaglio alle physique durol è proprio perfetto perché ruolo come di maio era perfetto come capo politico dei grillini e conte non ci azzecca niente anche travaglio è perfetto per il giornale dei grillini e ogni partito e ogni giornale ha il suo direttore o capo politico perfetto perfetto no c'è il partito che è razzista che ha il capo politico che è razzista ed è perfetto se gli metti in altra persona non funziona è pertanto partito che vai capo politico che trovi giornale che vai direttore che trovi per fortuna che io sono libero non devo rispondere sì signore a nessun editore non devo rispondere sì signore a nessun leader politico stai attento a quello che dici perché il leader politico ti potrebbe poi ma ma io dico quello che mi pare piace ma io dico quello che voglio dico quello che voglio ecco purtroppo per adesso per fortuna non sono nelle condizioni di dover dire sì signore a qualcuno sono libero ho la libertà di cattedra all'università posso raccontare quel cacchio che mi pare su youtube posso raccontare sulla politica italiana quello che voglio sulla politica italiana quello che voglio pertanto vi posso dire naturalmente non deve essere facile lavorare al fatto quotidiano o sei un travaglio e vai perfettamente d'accordo con travaglio ma se sei uno che vuole scrivere in un certo modo magari oggi la vuoi pensare così domani vuoi dire un'altra roba mi sa che non puoi lo dice lui stesso colombo non gli hanno neanche pubblicato un articolo e quando succede a un editorialista che non ti pubblicano un articolo è finita è finita se tu è un editorialista come è successo a me che non gli pubblichi un articolo il rapporto è finito il rapporto di lavoro è finito vuol dire che c'è una censura vuol dire che c'è censura io li ho mandati subito a quel paese subito appena non mi hanno pubblicato l'articolo non gli ho più neanche risposto al telefono fine però devi essere in condizioni di poterlo fare non devi dipendere economicamente da queste persone io non dipendevo economicamente da quelle persone lì arrivederci a tutti e grazie